Musica Ben trovato un nuovo appuntamento con l'informazione di Unica TV edizione di Monza Oggi apriamo con la cronaca, con l'aggressione di un quindicenne alla stazione di Serenio che è stato spinto contro un treno in corsa, tra poco nel servizio vedremo le immagini shock riprese dalla videosorveglianza e poi ancora cronaca, attimi di terrore per una 38enne che a Monza nell'ascensore di un condominio è stata aggredita da un 33enne richiedente asilo che è stato arrestato per violenza sessuale e parleremo anche del nuovo portale di ATS Brianza dedicato ai Caregiver sono 62.000 le persone sul territorio che si prendono cura di altre persone ecco perché ATS Brianza ha pensato questo portale con informazioni utili e anche video per prendersi cura di chi cura vediamo i servizi Spinto contro un treno in corsa, una punizione per aver mandato dei messaggi a una ragazza contesa che solo per un fortunato caso della sorte non è finita in tragedia ecco le immagini shock dell'aggressione avvenuta mercoledì pomeriggio alla stazione di Serenio questo video ripreso dalle telecamere di sorveglianza dello scalo ferroviario Brianzolo tutta la terribile scena dopo una prima aggressione durante la quale hanno provato a portargli via la felpa il ragazzo di 15 anni è stato nuovamente raggiunto davanti al binario 2 una breve discussione poi lo spintone verso un convoglio in transito fortunatamente come mostrano questi spaventosi fotogrammi il giovane dopo essere stato colpito dal treno è caduto nel piccolo spazio tra le rotaie e la banchina riportando una ferita alla testa e la frattura della caviglia niente rispetto al rischio che ha corso i due aggressori di 14 e 15 anni sono stati fermati con l'accusa di tentato omicidio in concorso oltre che di tentata rapina le riprese sono state diffuse dalla polizia di stato di Monza che ha condotto le indagini su autorizzazione del procuratore della Repubblica dei Minori di Milano purtroppo questi ragazzi ormai non sono più abituati a pensare agiscono, credono di vivere in una canzone o in un film e perdono il contatto con la realtà ha dichiarato proprio il procuratore per i minorenni Ciro Cascone un mondo dove io mi sento offeso e ho colpito senza rendermi conto di avere davanti una persona e non un ostacolo che posso buttare sotto al treno è salito con lei su un ascensore poi l'ha aggredita momenti di terrore per una 38enne giovedì mattina in un condominio del quartiere San Rocco la polizia di stato ha arrestato un 33enne cittadino camerunense per violenza sessuale da allertare le forze dell'ordine un addetto alle polizie che ha assistito alla scena lo straniero è entrato nell'elevatore subito dopo la sua vittima poi è iniziato a palpeggiarla sul posto di sono precipitati gli agenti della squadra volante che hanno bloccato l'uomo i poliziotti hanno quindi provveduto a una prima ricostruzione dei fatti l'aggressore è stato accompagnato in questura dove a seguito dei rilievi segnaletici e datti iroscopici è stato identificato il 38enne richiedente asilo irregolare sul territorio nazionale fino allo scorso 22 febbraio aveva già ricevuto un ammonimento per atti persecutori emesso dal questore di Monza e dell'Abrianza il 30 dicembre scorso a seguito delle segnalazioni di un'altra donna vessata dalle sue condotte il residente peraltro in quello stesso condominio non solo l'uomo era stato denunciato a piede libero proprio il giorno prima per oltraggio e resistenza pubblico ufficiale a causa del suo comportamento molesto una addetta della biblioteca di San Rocco aveva chiamato i poliziotti sussistendo la flagranza del reato di violenza sessuale gli agenti delle volanti hanno proceduto all'arresto del camerunense lo hanno portato nel carcere di San Quirico a disposizione della procura il questore ha già attivato l'ufficio immigrazione per l'avvio del procedimento di allontanamento dal territorio nazionale dammi soldi se no ti sparo ti ammazzo apri la cassa pistole in pugno hanno rapinato il tigotà di Muggiò e non è escluso che possano essere gli autori di altri sei colpi tutti in negozi della stessa catena avvenuti nell'ultimo mese i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Desio hanno arrestato un cinquantenne pluripregiudicato già noto per aver messo a segno colpi analoghi negli anni precedenti e di un 42enne suo complice residenti il primo nel milanese e il secondo in Brianza l'accusa nei loro confronti è di rapina aggravata in concorso i militari dell'arma sono arrivati a loro grazie a un lungo servizio di osservazione, controllo e pedinamento effettuato nei pressi del negozio di Muggiò individuato tra i possibili obiettivi dei rapinatori a un certo punto hanno notato una smart già oggetto di indagine con a bordo due persone alcuni elementi corrispondevano con quelli dei malviventi che avevano assaltato gli esercizi commerciali della stessa catena a Desio, Paderno Dugnano, Senago, Garbagnate Milanese, Milano, Nova Milanese i due, come da manuale della rapina hanno parcheggiato l'auto con il motore acceso davanti al negozio il 42enne è rimasto alla guida del veicolo l'altro ha fatto irruzione nel negozio e sotto la minaccia di una pistola rivelatasi poi giocattolo priva del tappo rosso ha costretto la cassiera a consegnargli l'incasso circa 400 euro prima di tornare in auto e fuggire i militari si sono subito lanciati al loro inseguimento e li hanno presto bloccati nel vicino comune di Cinisello il bottino è stato restituito al negozio gli arrestati sono stati portati nel carcere di Monza nel 2005 uno dei due banditi all'epoca 32enne aveva puntato un cacciavite alla gola di una donna incinta di 8 mesi durante una rapina all'interno di una filiale BNL di Milano affidato in prova a una comunità brianzola ha chiesto di tornare in carcere i servizi sociali troppo duri i carabinieri della stazione di Besana Brianza hanno accompagnato in cella un 48enne brianzolo originario di Mariano Comense pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti contro il patrimonio e in particolare per numerose truffe online commesse in tutto il nord Italia l'uomo dallo scorso 10 dicembre si trovava in una comunità per scontare la pena di 6 mesi di reclusione dopo una condanna per guida in stato di ebrezza e sotto l'effetto di stupefacenti l'uomo però ben noto ai militari dell'arma poiché più volte denunciato per svariati reati commessi sul territorio dopo aver trascorso meno di un mese in un centro terapeutico riabilitativo dove tra le varie attività quotidiane vengono svolti numerosi lavori manuali articolati in turni in cucina, di manutenzione, agricoli ha realizzato che la misura alternativa alla detenzione non faceva al caso suo in carcere si fatica meno ha detto ai carabinieri così ha preferito tornare indietro sui suoi passi e chiedere di scontare la pena in carcere è stato arrestato dai militari dell'arma e portato nella casa circondariale dove sconterà i mesi rimanenti Nel territorio dell'ATS Brianza ci sono 62.186 caregiver circa il 10% della popolazione totale dato che trova conferma nei singoli comuni brianzioli coinvolti Monza, Seregno, Vimercate, Desio e Carate ATS Brianza lancia un portale che vuole prendersi cura di chi cura Il caregiver è una figura che è spesso obbligata nel suo ruolo perché se pensiamo ai genitori nei confronti di figli con disabilità o figli nei confronti dei genitori che hanno delle specifiche necessità assistenziali beh, vi è un obbligo morale familiare a garantire l'assistenza il che significa dover affrontare costi dover limitare la propria capacità di avere relazioni sociali perché ci si deve dedicare di più alla persona malata che non ai propri interessi personali significa dover mettere in campo molte abilità diverse perché bisogna assistere la persona per la parte, ad esempio, dell'alimentazione dell'igiene personale, l'accompagnamento a visita il supporto nella somministrazione di terapie il rapporto con il medico di medicina generale Diventa quindi evidente l'esigenza di un portale Quali sono i contenuti? C'è una parte dove viene spiegato qual è il ruolo del caregiver e come è possibile sostenere il caregiver quindi anche una serie di indicazioni per il supporto psicologico del caregiver Poi entriamo invece nelle patologie per cui il caregiver cura la persona al domicilio che però ogni persona ha una patologia diversa per cui entriamo nel dettaglio delle patologie e cerchiamo di capire come meglio assistere I video invece che cosa fanno vedere? In modo molto pratico come gestire per esempio la movimentazione del paziente al domicilio oppure danno consigli sull'alimentazione Un'altra parte che ritengo molto importante è quella delle agevolazioni Spesso i caregiver non conoscono quali sono i loro diritti anche dal punto di vista economico e per cui abbiamo dedicato una parte alla legge 104 e alle altre agevolazioni che ci sono proprio perché tutti possano essere a conoscenza dei loro diritti Bentornati in studio Vi ringrazio per essere stati con noi e buona continuazione sul canale di Unica TV Grazie a tutti